...di cuore o di testa? Tutte e due. Ok. Non posso più continuare a star male. Forse, prima o poi, questo rapporto vuol dire che era destinato a concludersi e vuol dire che... Dobbiamo concluso via, Francesca. ...neanche tu ci staresti, io non ci sto. Non ci sto più. Ci sono stato due anni, adesso io non ci sto più. Forse forse è stato un motivo per stare qui. Non ci sto più, non lo sai, se a lei rimai sento sì. Forse forse è stato un motivo per stare qui. Ho un grande ruolo, stai tranquilla, cos'è? Che buono! Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non lo voglio con il giusto, però mi resta più sentita. Francesca non piange, però... Non mi ha pagato. Anche se la mia moglie si muove. Mi ha pagato. Non ti preoccupare. Bye, 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 bye.